E' una notizia che ci dà grande gioia, abbiamo saputo in tempo reale, grande gioia che esprimo per Christian, per la sua famiglia, una famiglia che ho conosciuto e che è una famiglia veramente straordinaria. Si sono mobilitati in tanti, noi ci siamo mobilitati subito, sin dal primo momento non solo per dare solidarietà alla famiglia, ci siamo mossi in due direzioni, una pubblica per evitare che crollasse l'attenzione, abbiamo messo dal manifesto sul Palazzo San Giacomo le iniziative pubbliche, abbiamo dedicato il forum delle culture in modo simbolico a Cristo e poi ci siamo mossi in modo diplomatico, tante telefonate, tante iniziative, tanti incontri che ho fatto anche personalmente sia a Roma, sia in Russia, sia a Napoli, Questo grazie comunque all'attività di altre istituzioni si è raggiunto un risultato che non era affatto scontato, poi personalmente è un momento di gioia perché Christian è napoletano e la battaglia di Christian è la battaglia del sindaco di Napoli.